Buongiorno a tutti, questa mattina vi porteremo a fare un giro tra i nostri olivi per farvi vedere dove nasce il profumato e gustosissimo olio extravergine di oliva della Collina del Sole. Ecco uno dei nostri maestosi olivi. E ora ci avviciniamo all'oliveta. Eccoli qua i fiori che poi si trasformeranno nelle olive che ci danno il nostro prezioso olio. Ecco qua, camminiamo circondati dagli olivi in fiore bellissimi in questo momento. Ecco qua il fiore. Ecco qua le ginestre in fiore. E ancora le bellissime piante di olivo. Ecco qua il prezioso olio della Collina del Sole. Vi ricordiamo che tutte le olive sono colte rigorosamente a mano, la spremitura viene fatta a freddo e poi sono confezionate in queste comode lattine da un litro che mantengono inalterate sia il colore, soprattutto il gusto e tutte le proprietà organolettiche del nostro olio. E poi sono comodissime per essere spedite in tutta Italia e nel mondo. Se siete interessati a gustare il nostro olio potete consultare il sito www.lacolliradelsole.org nella sezione shop oppure venire direttamente in azienda da noi a gustarlo. Grazie.